Il Presidente mi permetta di ringraziarla a noi mio e di tutta la squadra per la sua presenza ieri sera. È stato veramente per noi un gesto molto importante e volevamo dedicare la vittoria a lei e ai milioni di tifosi italiani in tutto il mondo che non ci hanno mai fatto sentire soli, accompagnandoci passo dopo passo con affetto e passione in questo entusiasmante viaggio. Una dedica che vorremmo estendere a Davide Astori, che avremmo voluto oggi qui con noi e che è sempre presente nei nostri pensieri, nel cuore di quello conosciuto ed anche nei giovani che hanno sentito parlare di lui.